Io non mi sento condizionato, francamente, perché ho letto ovviamente le posizioni delle due forze politiche sono abbastanza note, sono state esplicitate anche attraverso vari interventi che sono stati fatti, vari interviste che sono state concesse dai vari esponenti politici, ma non mi sento condizionato per un semplice fatto, perché la mia linea è sempre quella, l'ho anticipata giorni fa, l'ho esplicitata ancora successivamente perché ovviamente voi tornate a sollecitarmi sul punto, mi è molto chiara nella mente, quindi non c'è nessun condizionamento che mi possa o turbare o in qualche modo dar pensiero.